Si gioca l'ultima giornata della regular season in Serie D. Le abruzzesi del girone A-F impegnate per i 90 minuti conclusivi, ma non sarà così per tutte. L'Aquila e Avezzano sono attese dai play-off, il Chieti prova a seguirle, il notaresco pensa già al futuro. Il derby abruzzese del Gran Sasso d'Italia si gioca in diretta TV in chiaro al Rete8 dalle ore 15. La gara del Chieti sul campo del Matese in diretta streaming sul sito www.rete8.it. Al Gran Sasso d'Italia ancora un pienone per caricare l'atmosfera in vista dei play-off. Il derby contro il notaresco servirà per chiudere alle spalle del campo basso già promosso in C e per tenere alta l'asticella dell'ambizione. Cappellacci in ansia per Orilio e Giulio Dori ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Lo staff proverà a recuperarli per i play-off che scattano il 12 maggio, previsti 4.000 spettatori, diretta TV in esclusiva su Rete8. Il Chieti a piedi Monte Matese chiude contro i Campani, già retrocessi in eccellenza. A Enero Verdi serve un miracolo per accedere ai play-off. Per raggiungere il quinto posto i Teatini devono vincere e sperare che Roma City perde in casa con il già retrocesso Vasto Girardi e che Senigallia e Atletico Ascoli non vincano. Nonostante la strada sia tutta in salita, il tecnico Luiso vuole il massimo. Consone ancora out, anche Laziz fuori uso. In porta giocherà Serra, in difesa confermato Esposito in coppia Convesi, Cucciniello terzino destro, uno tra Tortore e Caterino a sinistra. Centrocampo con i Big, Forcione, Castellano e Gaillet. La novità in attacco con il ritorno di Salvatore dopo la squalifica. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di Rete8 dalle ore 15. L'Avezzano assora per blindare il terzo posto. I Biancoverdi per centrare l'obiettivo dovranno dare il massimo, calcolando le assenze del fantasista De Silvestro e dei difensori Filippini e Golia, tutti squalificati. Out anche Roberti, infortunato, ma ci sono chance per rivedere Damceschi, fermo da qualche settimana ma sulla via del recupero. Il tecnico Pagliarini non fa calcoli. Dobbiamo guadagnarci la conferma del terzo posto con una prestazione convincente.